Oggi, 21 gennaio, la Chiesa Cattolica festeggia Santa Agnese. Agnese nasce nel 291 a Roma, in una nobile famiglia, sotto Diocleziano, nemico dei cristiani. Fin da bambina desidera dedicarsi a Dio e rimanere casta. Di una bellezza angelica che incanta e che non passa inosservata, ha solo tredici anni quando, nel periodo delle persecuzioni contro i cristiani, il figlio del prefetto di Roma, incontrandola per caso, si invaghisce di lei. L'uomo le promette denaro e pietre preziose per indurla a sposarlo. Agnese lo respinge con fermezza per proteggere la sua verginità e la promessa fatta al Signore. L'uomo prima soffre le pene dell'amore per non essere corrisposto. Poi si vendica e denuncia la ragazzina perché cristiana. Agnese viene arrestata e il giudice usa tutti gli argomenti possibili per convincerla ad abbiurare, minacciandola di punizioni atroci e presentandole tanti pretendenti per farla desistere dal suo voto di castità. Agnese con tenacia si oppone, proclamando la sua fede cristiana e la sua volontà di mantenere il voto fatto. Condannata a essere esposta in un postribolo, la fanciulla si copre tutto il corpo nudo con i lunghi capelli che il Signore le fa crescere miracolosamente. Gli uomini, intimoriti dal suo aspetto puro e da una luce abbagliante che l'avvolge, non osano avvicinarsi. E quando il figlio del prefetto le si accosta per abusarne, un lampo improvviso lo rende cieco e lo fa morire. Sant'Agnese, impietosita nel vedere il prefetto disperato per la morte del figlio, prega e fa riaprire gli occhi all'uomo, che si ravvede e si converte. Ma i nemici dei cristiani non vogliono lasciarla libera. Così, per difendere la sua purezza, Agnese offre in sacrificio la sua giovane vita, subendo il martirio. Muore il 21 gennaio del 304. A Roma, sul lato occidentale della famosa piazza Navona, sorge la basilica di Sant'Agnese in Agone, costruita nel XVII secolo dall'architetto Francesco Borromini. Il nome Agnese significa casta e pura. La Santa ha per simboli l'agnello, il giglio, la palma. È patrona dei giardinieri, degli ortolani, delle fanciulle e delle fidanzate. Protegge contro i pericoli del mare. Abbiamo trasmesso Ecco chi è Sant'Agnese, breve a geografia tratta dal libro di Mariella Lentini, Santi, compagni guida per tutti i giorni.